Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, stiamo per assistere a uno scontro tra i poteri che governano il mondo. Da una parte abbiamo il Presidente della Banca Mondiale, David Malpass, nominato da Donald Trump, dall'altra coloro che vorrebbero la sua testa, ovvero i globalisti dello Stato profondo. Ci sono tutti, da Biden a Soros, da Al Gore a Guterres, segretario generale dell'ONU. Il motivo di questo conflitto? Semplice, il World Economic Forum vuole portare avanti la sua agenda climatica per arrivare al grande reset. E, secondo l'elite di Davos, Malpass non sta finanziando a dovere la transizione energetica. Interrompiamo qui il video, nel rispetto delle norme di YouTube, che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram, dentro la notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 145.000 iscritti, confermandoci così il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.